C'è una reazione, arriva Montolivo, il lacrosse di Montolivo, Montori, fa giocare l'arbitro, è andato giù anche Balotelli Vello di Balotelli, però ne ha trovato a Cacà, un passare in Cacà, da due di fronte, in area di vigore Cacà, porto il tiro, la palla sopra l'imposto di Valleva sul fondo Ionca, per Montolivo, insiste le mila, Montolivo morbido a cercare lo scatto di Balotelli, a chiudere con grande abilità serie, arriva Montari, dentro per Cacà, in area di vigore, Cacà, il croccia, vola fuori Ma in contro Barea, cerca gli appuzzo Nasi, il pallone vagante, attenzione, croce, come Balotelli, spalle l'errotrollo, l'amorosa ballerò tra Lazio I dettui chiedono sull'attaccante della Milano, se non c'è Cacà, non è vero, Cacà non li può calciare, Cacà, caggia, torna per Cacà, torna per Cacà, è bellissimo L'hai chiamato Tumori, da lì può calciare, ed effettivamente hai visto lo spazio giusto, ci stava con la confusione a giro sul secondo palo E Cacà l'ha messa lì con grande classe Cambia le desba, ancora Candreva, seguiamo la bella con il decidio, va a sostenere anche i puntari, Candreva, la mette in mezzo, colpo in mezzo, le mette, si è vincuore, la Lazio Siccome è qua la difesa della Milano, che però adesso sta rientrando, Nasi, pensando non può verticalizzare, lo fa adesso, benissimo però Attacca lo spazio close, Malone Berloli, neve di rigore, Diocuilella Finisce a San Siro, 1-1